questa volta è buono il segnale con l'errore del numero 3 alisa tc sbaglia brevemente anche amerigar mentre le altre si mettono in movimento e al comando scivola con il numero 2 apple mar nei confronti di asmira e ape reggina gruppo sgranato con adesso anche il tentativo di risalita da parte di amerigar dopo la breve incertezza iniziale e i 400 metri del leader vanno via in 38 quindi al comando apple mar che ha guadagnato alcune lunghezze nei confronti di asmira poi si fa vedere con il numero 8 a guacate l'errore ripetuto da parte di amerigar che coinvolge anche ape reggina e quindi finiscono a tabellone entrambe e così davanti alle tribune comanda sempre con il numero 2 apple mar che fa 800 metri nell'ordine dell'uno e uno si fa vedere a guacate che adesso rileva il comando dell'operazione giunge a completare il primo chilometro a media di 1 e 17 scarsi a guacate leader si fa vedere adesso in perline esterne attrazione che giunge al lato di apple mar a smira sempre in terza posizione alla corda poi ancora il numero 7 di apocalipser il numero 9 di ariel quando siamo di fronte con guacate che continua a condurre nei confronti di attrazione che ora sopra avanzato e polmare insegue la battistrada ci sono 400 dal palo a metà della ditta opposta in 30 e mezzo per la libri leader aguacate che continua a condurre ma si avvicina attrazione che va in caccia della battistrada poi ancora apple mar quando siamo a metà della piegata conclusiva con i primi due in lotta per il successo con attrazione che va all'attacco di aguacate quando mancano 200 scarsi al traguardo l'errore improvviso di aguacate che poi si rimette al volo e attrazione che è lì al suo esterno attrazione che attacca a fondo aguacate i due molto vicini sul palo nel finale dalle immagini aguacate sembra mantenere qualcosina ma probabilmente ci sarà anche da verificarne l'andatura e poi il gli altri in lotta per il terzo posto andiamo a rivedere le immagini qui siamo all'ingresso in dirittura con aguacate all'interno e vedete il breve errore rientra di trotto la lieva di afring midra poi il numero 10 di attrazione che va al suo esterno fin sugli ultimi metri dove aguacate e attrazione sono molto vicini con la prima all'interno che sembra mantenere qualcosina ma ovviamente dobbiamo attendere il risponso del foto finish del grazie 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 grazie